... Quindi si mobilita un po' tutta la diocesi che va da Villa Ricca fino a Torre Annunziata. Qui sono presenti tutte le realtà giovanili, quasi più di 1500 giovani che vogliono con il loro entusiasmo poter dire a tutti che è possibile un mondo diverso. Comunque ci vuole la serenità e la salute, in primis la salute, perché per quello che ci sta accadendo salute non ce n'è quindi non abbiamo né futuro e né gioia di vivere e andare avanti. Noi vogliamo dare una nota positiva, ci dobbiamo un attimo svegliare, non ci dobbiamo abbandonare su questa cosa che il lavoro non c'è mettiamoci insieme che insieme si può fare tanto, quindi questo è lo scopo del progetto Policoro. Grazie. Ci affidiamo sempre a Dio, questo penso che è una cosa essenziale, tutto quanto. Il Signore può darci una mano ma sicuramente bisogna essere aiutati da tutti, quindi facciamo fortezza sul Signore ma tutti insieme possiamo avere un futuro migliore. E' un giorno di giovani in una terra giovane che ha bisogno di giovani per poter ringiovanire, per poter portare un po' di speranza e di fiducia in queste nostre terre. Allora, non vogliamo dare un po' di speranza e di fiducia in queste nostre terre. Grazie a tutti.